Una cosa da dire, la devo dire, vi dispiace, la devo dire. Perché i vecchi hanno il diritto di voto? Giulia Torelli, 35 anni, influencer da 214.000 follower, esperta di moda e reginetta italiana del decluttering, l'arte del riordino degli armadi, ispirata al successo mondiale della giapponese Marie Kondo, ha spesso cavalcato argomenti trend per racimolare visibilità, come in quest'ultima uscita contro gli anziani. Perché? L'hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima vita. Basta! No, i vecchi non devono fare niente, nemmeno votare, tantomeno votare. In casa devono stare fermi, fermi, immobili con quelle mani. Giulia, corteggiatissima anche dalle maggiori riviste di moda, si è già fatta notare per dichiarazioni scorrette. No, in effetti la cristianefa era uno stile pazzesco, era anche un po' anoressica, quindi le stava un po' bene tutto. Anoressici, ciccioni, fannulloni. Non ti devi sentire umiliata, è il tuo primo lavoro, non sai fare niente, non importa che tu abbia studiato dieci anni, non sai fare niente. Ma raga, ci siamo postati tutti, andare, lavorare, testa bassa. Passo svelto, zainetto sulle spalle come una ragazza qualsiasi, il filtro fiorellino, stridenti ornamenti di fronte a tanta spietatezza. Completamente ricordi niti, in giro ancora, con le mascherine sulla bocca. Eppure vivi, lì, attaccati alla vita. Il web si rivolta in massa e le ricorda, elencandoli tutti i grandi saggi dai capelli bianchi che hanno fatto grande l'Italia e che per fortuna non sono stati con le mani in mano. Probabilmente si scuserà anche questa volta dalle pagine di Tornassi Indietro, diario online sul quale annota tutte le sue figuracce. Errare è umano, perseverare è diabolico. L'oro nel cioccolato